Caos questa notte alla stazione di Capaccio Scalo per l'esplosione della biglietteria automatica. Intorno alle ore 21 di ieri alcuni malviventi hanno fatto esplodere mediante una bomba carta la biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Capaccio Scalo, con l'intento di rubare i contanti contenuti al suo interno. I ladri però poco dopo lo scoppio sono fuggiti senza portare via il bottino. Il boato provocato dalla bomba carta è stato avvertito dai tanti residenti della zona ad indagare sulla vicenda ai carabinieri della locale stazione di Capaccio Scalo.